Qual è l'intervento che ha causato in questo momento che va avendo il Consigliere Lantana? Noi stiamo un tavolo riguardo le commissioni, Presidente, a Modiglia e le mani. Ebbene, io chiedo, e quindi colgo l'occasione anche di un mio nome di intervento del Consigliere Lantana, per vedere se possiamo superare alcuni, diciamo, io li tengo equivoci, ma alcune problematiche che mi sono posti da un piantino. Quindi io ti metto, e il Presidente ciò di mettere in votazione, la sospensione e di unirci con i capoggi. Grazie. Vabbè, allora, non c'è il plusso per farlo, ma come è iniziale questa cosa? Quindi è un dato logico, e se non potrebbe essere passato. Quindi si chiede la sospensione, così io un altro, forse così, la semiotica, uso del voto. Quindi è in votazione, la proposta di sospensione e di unirci con i capoggi. No, non c'è il plusso per farlo, ma come è iniziale questa cosa? No, non c'è il plusso per farlo. Cioè, se noi davvero, vogliamo essere consedenziali a ciò che abbiamo votato quattro minuti fa, che è un topolo di indesa, noi dobbiamo essere consedenziali, e questo è un invito al Presidente del Consiglio, che è la sua autonomia di mettere subito in campo le condizioni conciliari e permanente, che devono essere la sede decisiva per poter distruttere e quindi andare avanti e cercare di dare la destra. In questo momento, fare una sospensione tra loro e gli altri coleghi dell'opposizione non mi sembra una cosa positiva. Per il semplice motivo a te, io oggi invito il Presidente del Consiglio ad alzare avanti i concorsi del giorno per vedere se possiamo realizzare ciò che tutti quanti potenzialmente vogliamo fare, ma che non siamo ancora questi in costruzione di fare, perché a tanti mesi, all'elezione del sindaco e l'ocattura, non ancora sono state attuate le condizioni conciliari del Presidente. Allora, il Consiglio è il Consiglio che è un inviatino che non pare sempre così attento, soprattutto a mente dalla delina del Consiglio del Consiglio del Consiglio. Noi non abbiamo chiesto di inviare il capo, abbiamo chiesto i sospetti della tentativa, da questo della decisione del Consiglio delle opposizioni. Il proprio per cercare di trovare nessuna, la posizione del Consiglio è una possibilità, una conciliazione e infatti va all'atto in consiglio, immagino con l'atto, l'altra maggioranza è chiesa. Lei mi faceva appello, sindaco, se vuoi assustarmi, sono a me. Quindi è chiaro che io sono tenuto a vendere tutti la proposta del consiglio. E quindi procedo con la votazione. Allora, chi lo fa al favore, nomino con il consigliere, inizio, prudizio, consigliere, statunio, prudizio. Chi lo fa al favore della sospensione di partituto, chi invece non è tanto come si alza. Quindi sono cinque, sono cinque, sono nove. Allora, chi rimane sempre favorevole alla sospensione, chi è il contrario, chi alza i piedi. Quindi è favorevole alla sospensione, numero due, quattro, cinque, tre, sette, otto, nove. Consigliere, consigliere, consigliere. Allora, allora, con verità, riteniamo la votazione. Chi rimane seguno il contrario gou hairdo alla sospensione, chi rimane b thoma il contrario alla più. ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.